Gesù Raffaetto la lascio qua scusa avvocato che cosa hai fatto? niente ho toccato un paletto quante volte? non lo so non gli ho manco contato tieni la chiappa alle 11 e mezza la vengo a prendere c'è una fesseria papà 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 ciao papà papà questo è il mio fidanzato si 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 lo sai che cosa ha detto il mio fidanzato? che c'è una bella carrozzeria si 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 anche due bei ammortizzatori si ammortizzato? ha detto a me se provi ad aprire il cofano e a toccare il motore ti faccio il tagliando della marmita ma tu il tagliando? no no il cofano no a cadere a controllare l'olio no le gomme niente l'assicurazione no il bolo no no allo com'è venuta? e come deve venire? ma grande bellissima vero? eh ma no uffo è uno sportello rosso e questo è grigio questo è verde blu come il rosso verde blu grigio è un colore perlato colore perlato colore perlato 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 perlati perlato perlato no no averti perlato ah Grazie